iniziamo a respirare, inspira, togli l'aria molto lentamente ancora, inspiro, togli l'aria inspiro, togli l'aria se puoi aiutarci, poggeremo una mano sulla parte inferiore dell'esterno e una a livello che non venivo sulla pancia, inspiro, le due mani si allontano e spiro, le due mani si avvicinano inspiro, togli l'aria inspiro, le mani si avvicinano, questo indica che sto contenendo i muscoli addominali faccia dura, tratta, inspiro togli l'aria inspiro togli l'aria quello che succederà sarà questo, inspiro la testa leggermente in avanti e il sedere in fuori togli l'aria grazie alla contrazione degli addominali, le due mani si avvicinano, il sedere in avanti inspiro togli l'aria inspiro inspiro togli l'aria inspiro togli l'aria allunga verso l'altro fianco giù 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 inspiro vado dall'altra parte giù gli addominali sono sempre contratti, lo sterno in basso pensa allo sterno e deve avvicinarsi con l'olivo giù inspiro spalle basse abbassa lo sterno, contrai l'addome, togliendo l'aria ruota solo sul vagino il vagino è fermo rimani in questa posizione, inspira togli l'aria inspiro togli l'aria vado dall'altra parte inspiro togli l'aria togli l'aria torno al centro inspiro togli l'aria gli addominali sono contratti sterno, basso pancia contratta spingi fuori le mani prendi l'aria su le braccia in avanti si aprono le scapole addome contratto e giù inspira scendi giù non ci sarà movimento delle braccia ma solamente della schiena inspiro testa su sedere fuori togli l'aria in alto in alto la schiena guarda il bacino inspiro togli l'aria inspiro inspiro togli l'aria inspiro togli l'aria togli l'aria spiro 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 togli l'aria spiro togli l'aria spiro spiro togli l'aria divalichiamo le gambe la punta del piede guarda in fuori le mani in avanti inspiro togli l'aria contrai l'addome scendi giù dritta peso al centro e su inspiro contrai l'addome abbassa il mento contrai l'addome esterno basso giù di nuovo inspiro contrai l'addome abbassa lo sterno lo sguardo in avanti il mento è basso verso lo sterno inspiro contrai l'addome abbassa il mento giù ancora inspiro abbassa il mento contrai l'addome scendi un altro inspiro abbassa il mento contrai l'addome giù rimani qui inspiro contrai l'addome ruota solo il tronco sul bacino inspiro togli l'aria togli l'aria addome contratto vai dall'altra parte prendi l'addome torno al centro e su inspiro abbassa il mento contrai l'addome esterno esterno basso inspiro togli l'aria ruota solo il tronco da un lato prendi l'aria torna al centro e ruota dall'altra parte torna al centro e su stessa esercizio ma con una piccola variante inspiro contrai l'addome e scendi giù dritta rimani in bassa inspiro sempre giù l'esterno contrai l'addome solleva un tallone e giù inspiro contrai l'addome dall'altra parte e giù inspiro abbassa lo sterno contrai l'addome dall'altra parte e giù inspira addome contratto abbassa lo sterno dall'altro lato e giù risali lento inspiro abbassa lo sterno contrai l'addome togli l'aria rimani qui prendi l'aria abbassa lo sterno contrai l'addome questa volta con tutte e due le punte e giù inspiro contrai l'addome abbassa lo sterno sui talloni e giù piano inspiro contrai l'addome sulle punte sulle punte tallone in alto abbassa piano risali lento adesso sempre gambe divaricate questa volta però le punte saranno in volte in avanti e non in fuori inspiro contrai l'addome fletti solo un ginocchio sentirai una leggera tensione in allungamento del muscolo dei muscoli adduttori torna al centro inspiro contrai l'addome e vai dall'altra parte gli addominali sono contratti lo sguardo in avanti sterno basso addome contratto torna al centro inspiro abbassa lo sterno addome contratto scendi il ginocchio sarà flesso questa volta in avanti torna al centro inspiro contrai l'addome dall'altra parte e su abbassa le braccia una gamba avanti una rimane indietro inspiro contrai l'addome questa volta tutto il peso sarà in avanti l'altra dietro e libera dal carico contrai l'addome torna su inspiro contrai l'addome appassa il mento passa lo sterno giù torna su inspiro contrai l'addome abbassa lo sterno scendi giù lentamente e su cambio gamba inspiro contrai l'addome abbassa lo sterno scendi gli addominali contratti sali inspiro abbassa il mento contrai l'addome contrai l'addome e giù indominali contratti indominali contratti andiamo a prenderla braccia lungo i fianchi metto un passo inspiro in Thailand abbassa lo sterno viene sul sedere abbassa lo sterno trai l'addome sali su sedere abbassa lo sterno trai l'addome e sedere su sedere su e scendo inspira abbassa il mento contrai l'addome stringi sedere sali e giù lentamente inspiro inspiro contrai l'addome abbassa il mento sul sedere rimani qui inspira contrai l'addome tieni il sedere stretto e nessuna gamba controlla il bacino dal lato della gamba sollevata deve rimanere perfettamente in linea con l'altro lato fletti il ginocchio giù inspiro abbassa il mento contrai l'addome sali su il sedere inspira mento giù sterno giù contrai l'addome sulla gamba controlla il bacino dal lato della gamba sollevata fletti il ginocchio e giù inspiro contrai l'addome sul sedere inspiro abbassa il mento contrai l'addome sulla gamba controlla il bacino dal lato della gamba sollevata e scendi piano inspiro abbassa il mento contrai l'addome sedere su inspiro abbassa lo sterno contrai l'addome nessuna gamba nessuna gamba bacino dritto fletti il ginocchio e inspiro abbassa il mento contrai l'addome sul sedere spiro 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 abbassa il mento contrai l'addome questa volta la gamba su spiro 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 abbassa il mento contrai l'addome sedere su spiro 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 bacino bacino su gamba su verso il soffitto scendiamo spiro spiro abbassa il mento contrai l'addome sedere su prendi l'addome contrai l'addome sulla gamba inspira in alto freddi gli occhi e per più inspira contrai l'addome sul sedere inspiro sulla gamba rimani qui prendi l'aria contrai l'addome spingi il corpo più su scendi piano e riposo inspiro contrai l'addome porta le gambe al petto metto basso inspiro contrai l'addome abbassa lo sterno prova a stendere la gamba senza ma inarcare la schiena torna al centro lentamente inspiro togli l'aria una gamba resta al petto l'altra vestendo con gli addominali contratti che schiacciano la schiena al poimento spingi il mento inspiro abbassa il mento contrai l'addome una gamba rimane al petto e l'altra va distendo dopo gli addominali contratti schiena giù spingi il mento spingi il mento spingi il mento spingi il mento contrai l'addome una rimane al petto e l'altra la distendo con gli addominali contratti schiena giù mi posiziono sul flanco spingi il braccio per solo fare mettermi sempre dalla posizione seduta a pelle in ginocchio scendi rimango in questa posizione respiro respiro i mondi togli l'aria rimane in basso con il sedere sui l'addome inspiro togli l'aria inspiro togli l'aria da questa posizione inspiro contrai l'addome e piano piano ti sollevi raggiungi la posizione eretta e giù inspiro togli l'aria contrai l'addome contrai i glutei abbassa lo stanno braccia in avanti sguardo in avanti e giù e giù inspiro contrai l'addome stringi il sedere porta di su braccia in avanti da questa posizione inspiro contrai l'addome una gamba una gamba e le braccia in avanti e le braccia su il mento è basso lo stanno è qui e verso il basso contratto l'addome giù le braccia giù la gamba e vado giù inspiro contrai l'addome stringi il sedere vai su braccia in avanti esterno basso inspiro contrai l'addome e porto in avanti l'altra gamba inspiro contrai l'addome braccia su mento in basso addominati i contratti giù giù e rimango giù riposo respira lentamente torna su questa volta ci blocchiamo in questa posizione inspiro contrai l'addome scendi giù dritta abbassa il mento abbassa lo sterno lavorerà tantissimo sul quadricipile lentamente torni su inspiro inspiro contrai l'addome abbassa il mento abbassa lo sterno giù non c'è nessun movimento se non a livello delle ginocchia tutto il resto è un pezzo unico rigido torna su lentamente questa posizione vado giù distendo una gamba respiro togli l'aria ancora togli l'aria spiro inspira togli l'aria e fletti il ginocchio giù faccio la stessa cosa con l'altra gamba dopodiché dopo di che torno in posizione seduta incrocio una gamba prendo l'aria prendo l'aria e ruoto il tronco sguardo rivolto verso il braccio che sta indietro inspira togli l'aria mentre togli l'aria porta la gamba al petto inspira togli l'aria sentirai un allungamento sullo gluteo lascia fai la stessa cosa con l'altra gamba dall'altra parte inspira ancora inspira togli l'aria spiro torno al centro misci i piedi inspira togli l'aria prova ad aprire le ginocchia inspira togli l'aria inspira togli l'aria e giù torna subentamente distendi le gambe prendi l'aria e vai giù cerca di toccare la punta di piedi riporti pian piano nella posizione per salire mani a terra pongi i talloni sollevando il sedere verso l'alto da questa posizione piano piano mi srotolo verso l'alto peso morbido in avanti delle braccia della testa ginocchi e testa rimarranno flesse fino alla fine morbida piano piano ti sollevi srotola la lombare il dorso le spalle testa e ginocchia arrivati in questa posizione possiamo aggiungere un ulteriore esercizio di stretching del quadricipite inspiro contraggio l'addome in maniera tale da evitare di narcare la schiena addominali quindi contratti per tutto l'esercizio afferro il piede e tiro indietro inspiro continuo a contrare gli addominali la schiena è dritta porto indietro il quadricipite tirando il piede verso il sedere lascio piano prendo l'aria faccio la stessa cosa dall'altra parte tolgo l'aria mentre contraggio gli addominali porto indietro il quadricipite e ando il piede ancora inspiro contrae l'addome e indietro addominali contratti schiena protetta giù inspiro togli l'aria inspira togli l'aria e stop inspira togli l'aria e stop a togli l'aria togli l'aria togli l'aria Grazie.